Vi ringrazio per essere qua, chi è collaboratore, chi è lettore, chi è socio, chi ci segue da tanto tempo e chi dedica tanto tempo a noi. Oggi è proprio uscito il numero 132 e vi ricordo l'appuntamento di sabato 11 novembre perché sarà il terzo evento del nostro compleanno con il musical Pim Pum Pum a Cernusco. Al teatro San Luigi a Cernusco. Sabato 11 novembre, prendere il biglietto sia alla Barbiella, quello sarà il terzo evento con cui festeggeremo i nostri 12 anni insieme. Poi ovviamente è aperta la campagna Buonaviglia 2018, più per farvi conoscere le più cuore alla gente meglio è, quindi distribuite i volantini che vi ho portato, farci conoscere perché quello che facciamo è bello, più gente lo sa, più gente ci viene incontro, meglio è. Grazie ancora e ci vedremo poi a novembre con i soci perché andremo a fare le lezioni per il mandato per i prossimi due anni. E quindi dentro e fuori siamo sempre attivi. Quindi forza dentro e fuori. Bravo! Un mensile per solo amatori, tanta bella gente che impegna il cuore e la mente per informare e aiutare senza chiedere in campo a mente. Basta solo un applauso dei lettori che li seguono con il video. Grazie! Grazie!